Ciao raga come state? Oggi sono in compagnia di mia sorella Valentina Natanzio e abbiamo deciso di fare una missione praticamente abbiamo intenzione di nasconderci in casa dei nostri genitori Assurdo! Sappiamo che sono appena usciti, sono andate a fare delle commissioni quindi abbiamo un po' di tempo per entrare in casa E nascondersi E vedere quanto tempo resisteremo senza farci beccare, la cosa difficile è che saremo in due Dove ci nascondiamo? Io direi di entrare e andare in camera nostra Ok, ma qui dobbiamo restare sempre insieme, oh Dio ma è difficilissima sta cosa Prima di iniziare iniziate a mettere like, andiamo? Andiamo, incrociamo le dita, ci dobbiamo muovere qui, altro qui Ok, aspetta Ok Fammi a casecchino Chiudi, chiudi, chiudi che sennò Capiscono Capiscono che E dove ci mettiamo? E non so mamma mia Sotto al letto Ma come fai a starci? Ti ci passa la testa? Ah qua sotto, possiamo stare qua sotto, guarda La borsa, la borsa, devo nascondere Sì, ci stai Au Au Ci sono che se facciamo sto casino Una piccola ci sta Anche E quindi cosa facciamo? Mi sa che ci siamo ragazzi Abbiamo sentito i passi di mamma, io li riconosco, ti dico solo questo Guarda, guarda, guarda Sto arrivando A voi come facciamo a tirare? Ai appiccato adesso Sì, ma dopo vai Sì, ma dopo vai Non lo faccio Non lo faccio Sì, ma dopo vai Il papà è fuori Il papà è fuori Aspetta bene Vieni, veniti qua Andiamo a spiegare Troppo rischio, troppo rischio Facciamogli arrivare qua, il bus Apri la porta e ci trovo Andiamo sotto il tavolo Sì, dai, fa ridere Pappa avrà chiuso, lo sapevo Non ci stai come? no mi sono non riesco ne prendi dove andiamo? non lo so cosa facciamo no cosa facciamo? non lo so vai vai sotto vai sotto Ci saliamo Quando ti chiedi? No, io non la voglio assprimare Ah solo per me? Non è questo Eh? Eh? Ecco il tuo il tuo cuore Che cosi? Il tuo cuore Andiamo Ok vedi Andiamo in camera loro Sembra voi dei ladri ma ti rendi conto In casa nostra Guardate che bella la camera di voi Ce n'è una lì là Andiamo in camera Ok E' stato super bai di qua Come va Come va Come va Dove è Luca? Sì è uscita di te io non riesco a capire dove sono noi giochiamo ogni giorno a questo cosa mi diverto mi diverto Ehi ho! Ehi ho! Ehi ho! Cosa faccia? Come si vuole? Ehi ho! 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 Ciao mamma! Ciao mamma! Ciao mamma! È da un'ora che ci stiamo nascondendo! Ehi ho! Ehi ho! Noi siamo qui da quando avete fatto la spremuta! Da quando siete entrati! Rapi! Rapi! Ciao! Ciao mamma! Ciao mamma! Ciao mamma! È un'ora che ci nascondiamo! Ma non eravamo in bagno! In tutta casa! È da un'ora che giriamo! Ma io adesso stavo andando a lavarmi i denti perché ho beccato una spremuta! Sto male! Come state? Ma ho metto qua! Da tanto! Ma cosa avete fatto ad entrare? Ciao mamma! Ma da quando siete qua? Un'ora! No! Un'ora da quando siete entrati! Però noi siamo arrivati un po' prima! Scusa! Voi scrivete nel gruppo Siamo! Voi avete scritto nel gruppo Siamo! Voi avete scritto nel gruppo Siamo! E gli fa! Il campanello! Ma il campanello ti sono andato a voi! Tutto! Cos'è che era per noi? Vi abbiamo sentito! C'era un qualcosa per noi? Ah sì! Che cosa? E poi eravamo sotto il tavolo quando hanno fatto gli spremuti! Nooo! Guarda lì! Adesso non sapevamo più dove... Non sapevamo più dove imboscarci! Eravamo nella vasca da bagno! Era lui che era dentro nella vasca da bagno! Sembrava un morto! Ah! Un morto! E poi si vedeva tutto! E quando siete entrati in cameretta? Eravamo io sotto al letto ed è sotto la scrivania! Ma da tanto! Entrano gli altri, ci cadono dietro! Capito? Sì! Dovete stare attenti! Probabilmente! 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 Quando vengono a scioccarlo! Mamma! Sto male! Sì! E' stato divertente! Ma loro manco lo sapevano! Per voi! Siete divertiti voi! Sì! Io e lei siamo geni! Cioè potevamo andare in giro! Sì! Scusa eh! E ti! Bene raga! Se vi è piaciuto questo video! Non dovete fare altro che lasciare un like! Cliccate sulla campanella! Lasciate un commento! Questi due sono un po' pazzerelli! Ma non ci volete venire? Ma non ci volete venire! 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 Tanti ce l'hanno chiesto di nasconderci qui a casa! E ci vediamo al prossimo video! Ok? Sì! Io no! Baccio! Ciao! Tanto anche se non vuoi non te ne accorgi nemmeno! Sì infatti! Puoi finire! Sì andiamo di qua! Andiamo di là! E noi sappiamo tutte le vostre mosse! Eh! Vi controlla! Siamo messi bene! Siamo messi bene!